Portare il cane in montagna in questi periodi è molto difficile. Anch'io mi sveglio e dico ok adesso devo preparare la macchina, so già che dovrò asciugarlo appena tornati. Ma appena sediti in auto tutto cambia. Le piccole fatiche e difficoltà a cui andrò incontro sono ripagate. Da un paesaggio incredibile, dal suo sguardo. Non pensarci, sali in macchina e parti.